Ciao a tutti amici e amiche di Volumbrite, siamo qui oggi al convegno sulla disabilità del decennale della nostra associazione. Io sono Noemi e sono qui con Gregory Leperdi, atleta paralimpico. Ciao Gregory, volevo chiederti qualche impressione a caldo sul convegno che è appena finito. Secondo me è andata bene, c'era un dischetto pubblico, poi sicuramente voi farete i vostri comunicati stampa, quindi ben venga il lavoro che fate per quanto riguarda il mondo della disabilità, perché soprattutto la comunicazione in questi tempi è d'obbligo che venga fatta bene. Quali motivazioni dai a dei giovani con disabilità e non con disabilità per intraprendere un percorso sportivo? Lo sport è ben risaputo che fa bene a tutti, indistintamente, disabili o meno, fa bene sia a livello fisico sia a livello anche mentale, come scarico dallo stress per esempio, e quindi per quanto mi riguarda io sono stato in nazionale di hockey per 14 anni, mi sono ritirato l'anno scorso, se ci sono chiunque voglia provare, che siano ragazzi o ragazze, indipendentemente anche dall'età, solo per venire a provare, ben vengano a provare, c'è questa possibilità, ho dato la mia disponibilità proprio per poter seguire i principianti, quindi ben vengano. Allora siete tutti invitati a a partecipare a qualche allenamento di Tori Seduti di Torino. Ciao e grazie.